Grazie Presidente, ovviamente noi voteremo a favore, siamo contenti di portare in aula quest'altra delibera su un piano di zona, Spinaceto 2, che era tra quelli in cui erano emerse delle criticità nel corso della commissione di indagine sui piani di zona. Ovviamente siamo a conoscenza del fatto che sono state avviate le procedure per la revoca e la decadenza anche su altri piani di zona, quindi come già sempre è accaduto in passato, in questo caso la commissione urbanistica non ha nessun problema a convocare una seduta in cui con l'apporto degli uffici possiamo fare un quadro sulle attività che in questo anno e mezzo gli uffici stanno portando avanti, stanno continuando ad impegnarsi su un indirizzo chiaro e preciso che questa maggioranza e questa amministrazione ha dato dal momento del suo insediamento, quindi dal 2016. Stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro intenso grazie anche all'impegno ovviamente dell'assessorato e degli uffici e quindi oggi non possiamo che essere contenti di aver portato a casa un altro risultato. Grazie.